Nel 2001, qui c'era il 7,8% di donne, il 7,8%, credo che addirittura fosse quasi più bassa della Costituente, per renderci conto. Cosa è cambiato? Nel 2003 la modifica costituzionale, anche la legge ha cominciato a inserire le norme dell'alternanza, certo con le liste bloccate, ma comunque ha prodotto, che hanno altri problemi da altri punti di vista, però ha prodotto un risultato diverso. E anche oggi la percentuale che abbiamo qua dentro, il 35%, che riteniamo assolutamente ancora insufficiente, ma è stata prodotta da queste azioni positive, dagli strumenti che hanno messo in campo la possibilità per le donne di poter accedere.